Covid Point presi da salto anche stamattina da migliaia di persone in coda per il tampone. Una situazione non più gestibile, tanto che l'azienda sanitaria ha deciso di cambiare sistema e regolare l'accesso solo con prenotazione. Ci siamo resi conto che è bello l'accesso libero, ma se l'accesso libero è un flusso continuo, cosa che non è, per cui già dalla prossima settimana stiamo pensando di organizzare tutto su una piattaforma e la gente si prenota il tampone. Se poi vedremo che qualcuno non trova posto nella prenotazione nei giorni, allora amplieremo l'orario dei tamponi anche fino ad arrivare alle ore 24. Il nuovo sistema dovrebbe essere operativo da mercoledì prossimo. L'altro grande problema che sta creando non pochi disagi ai cittadini è quello dei tempi di comunicazione dell'esito del tampone, problema accentuato negli ultimi giorni dall'altissimo numero di test anche molecolari che vengono effettuati. La soluzione potrebbe essere quella che l'Emilia Romagna sperimenterà tra pochi giorni, quella cioè dell'autotesting riservato ai vaccinati, proposta che il Veneto, con il metodo ideato dal dottor Rigoli, aveva avanzato mesi fa. Siamo antesignani, siamo noi che abbiamo inventato questo e non l'Emilia Romagna. Il problema è che quando fu proposto dalla Regione Veneta non fu accettato dal CTS nazionale. Potrebbe essere un'idea geniale perché eviterebbe tanti disagi ovviamente ai lavoratori, a chi deve fare le code, ai genitori, a tutti e contemporaneamente darebbe a noi la possibilità di utilizzare il nostro personale per i centri vaccini. L'obiettivo è quello di aumentare la copertura vaccinale con le terze dosi. Sono 80.000 nella marca le persone che devono ancora farla ed accelerare con la vaccinazione dei bambini. E dopo il successo dell'Open Day di questo fine settimana, dedicato alla fascia 5-11 anni, l'esperimento verrà ripetuto ogni weekend. Ogni sabato e domenica cercheremo di fare dei Vax Day 5-11 anni proprio per raccogliere il maggior numero di adesioni da parte dei minori e soprattutto ovviamente dei genitori.